salve amici benvenuti nel mio canale ricordatevi un like se vi è piaciuto il video iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti e voglio farvi vedere la mia collezione di occhiali e di orologi ma prima sigla guardate il video fino alla fine do dei consigli su come fare degli esercizi fisici e se avete dei commenti se avete delle richieste se volete approfondire altre cose basta che me lo scrivete nei commenti qua sotto ok eccoci qua allora partiamo con questi che uso adesso ultimamente in quest'anno quindi questi sono da vista sono bifocali da lontano vicino sono di marca non mi ricordo la marca non la leggo e si è cancellata e così uno poi ho questi che portavo poi ditemi quelle che vi piacciono di più questi questi da piccolini come sto come sto questi poi ho questi di dolce cavana da vicino queste quelle che metto da vicino metà un'aria da prof e poi passiamo a quelli un po più simpatici allora vediamo questi neri per il mare poi questi neri cambiamo forma sempre per il mare poi questi neri ma no ma abbiamo anche colorati così poi ho questi qua marroni piccoli 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 piccol Poi ho questi, wow tigrati, questi qua e questi li ho messi per uno spettacolo, poi mi dico come faccio ad avere tutti questi occhiali se li ho messi per uno spettacolo, per un balletto, questi. E poi alla fin fine questi bianchi che mi fa tanto vips, dai scherzo, poi vediamo gli orologi, gli orologi, però mi metto gli occhiali se no ragazzi non ci vedo la mazza, quali sono, aspetta che questi sono quelli sbagliati, ho gli occhiali sbagliati, questi non mi vanno più bene, ci sono, ora ci vedo. Ho questo orologio che adesso non allaccio, è stupendo, quando mi vesto di rosa oppure tutto di, allora se mi vesto tutto di nero metto l'orologio di rosa, gli orecchini rosa, una collana rosa e vai di orologio, questo. Mi piacciono gli orologi tutti particolari, tutti strani, poi ho questo fatto a bracciale con gli strass, sono fermi perché è un po' che non li uso più, però funzionanti, aspetta che lo metto alla rovescia. Ho questo qua con gli strassi, con gli strassi, tutti sbirluccicosi, a bracciale, poi ho quel semplice, da far spesa veloce, supermercato, via veloce, questo. Non vi dico la marca che non la leggo, poi ho questo, questo che è fatto anche questo tipo bracciale, che è molto particolare e molto carino. Poi ho questo, poi ho questo, questo che si mette in questo modo, ho anche la collana ad abbinare a questo qui, poi ho ancora questo sull'azzurro, et voilà, anche questo qui. Come vedete li uso tutti a bracciale, e poi ho questo, rosa di nuovo, sempre in questo modo, qui. Ok, questa è la mia collezione. Poi vi volevo parlare anche di una cosa. Ho visto su internet che tante si improvvisano ginnaste, che fanno gli esercizi di ginnastica. E vedo che non sono professioniste, ma sono fai-da-te. Sono consigli, ho capito, sono consigli che queste ragazze danno. Però ho visto che le fanno in un modo sbagliato. Non è corretto la posizione in cui si mettono. Quindi, essendo anche un'ex istruttrice, perché ho sempre insegnato in palestra, ora non lo faccio più, perché lavoro sempre in una palestra, però non insegno più. Però le cose le so. Sono sbagliate le posture che tengono. Ragazze, fateli bene. Guardate magari dei video tutorial su YouTube, che ce ne sono tanti. Ma se fate un esercizio, fatelo correttamente o vi fate male alla schiena, vi fate male alle ginocchia, vi fate male alle braccia. Quindi se io faccio dei pesi, se apro e chiudo, apro e chiudo le braccia, la posizione non è questa. Perché se va a fare un altro lavoro, è questa, la linea corretta, gomito e spalla. E apro e chiudo. Quindi la posizione è questa. Se devo portare su le braccia, le braccia non vanno in avanti, devono stare vicino alle orecchie. Quindi la posizione è questa. Idem, qui, se apro e chiudo, è questa, non è questa. Se faccio gli squat, perché sono importanti, la linea del ginocchio e della caviglia deve essere uguale del ginocchio parlo. Non può essere il ginocchio più avanti, deve essere uguale, vi fate male alla schiena. Gli addominali, se fate gli addominali, la colonna deve rimanere schiacciata al pavimento. Non sono le spalle che vengono su, ma è l'addome. Quindi, ragazzi, vi prego, scusate, vi prego, fateli correttamente o vi fate male. Con questo ho concluso. Oh, mi è venuto il fiatone. Io quando parlo di palestra mi esalto, non so perché. Allora, con questo, ragazzi, ho chiuso, ho finito questo video. Vi mando un grosso abbraccio, un grande bacio e seguitemi nei prossimi video. Mua! 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 Mua!